Intanto complimenti a loro perché hanno fatto una buonissima gara, si vedeva proprio subito che erano molto concentrati, erano in partita e lo sono stati veramente fino alla fine, anche che dopo l'espulsione comunque sono rimasti in partita e ci hanno reso la gara difficile. Ci abbiamo creduto fino alla fine, questa è stata l'unica nostra punta di forza, la partita non è stata bella, non abbiamo giocato benissimo, mi porto a casa un po' di buone prestazioni anche di ragazzi che non avevano giocato tanto, quindi tra tutti Marco Lino che ha fatto un'ottima partita e soprattutto anche i consigli del mio assistente Lolli che ci hanno fatto mettere bene in campo negli ultimi minuti e alla fine ci ha azzeccato la mossa che ci ha portato alla vittoria. Grazie mille.